Lui si trovava qui in un giro tra Palermo e Catania e poi abbiamo chiesto anche che potesse avvicinare anche a Ragusa ma anche a Siracusa da Grigente quindi poi si è ampliato questo piccolo tour che sta facendo. A Ragusa abbiamo portato in una realtà sportiva importante che è quella della Passalacqua, la squadra femminile di pallacanestro e penso che lui non dimentichi che la città è importante per tutti noi. Del resto ha dimostrato di averla a cuore, il suo governo è il governo che ci ha finanziato la metropolitana di superficie per 18 milioni di euro il suo governo è stato quello che ci ha finanziato la Ragusa Catania e la Siracusa Gela per le cose che sono state fatte per la grande attenzione quindi è uno che è stato vicino e è vicino quindi cerchiamo di tenercelo bene. Grazie